Eccoci. Allora, Matteo, noi ci siamo divisi in due, quindi partirò io e questa è una rappresentazione fedele di me stessa, come vedete mi assomiglia moltissimo, e dopodiché Matteo prenderà in mano un po' le redini e vi racconterà le cose dal punto di vista della regina di cuori. Vediamo se riesco a non accecarmi. Lui è un informatico, però questa etichetta non gli piace. Io non sono un informatico, però questa etichetta non mi fa né caldo né freddo, quindi insomma chiamateci informatici, chiamateci hacker, chiamateci come volete. Come vedete lui è una mia rappresentazione fedele, condividiamo la passione per i calzini bizzarri e la passione per il tè. Nonostante questo condividiamo anche altre cose. Condividiamo per esempio il fatto che entrambi giochiamo con le parole. Nella storia di Alice lui è il cappellaio matto, scusate ho dato per scontato che tutti sapeste chi fosse lui. Lui è il cappellaio matto e oltre a divertirsi moltissimo con indovinelli e stranezze eccetera, lui è un personaggio che fa domande scomode, osservazioni ovvie e che si agita moltissimo quando non ha le risposte. Si agita al punto che è il testimone chiave nel processo di Alice perché lui non sa rispondere e quindi il processo fondamentalmente va a cavoli a merenda. E io sono così. Un'altra cosa che abbiamo in comune io e lui è il fatto che non ci facciamo tante domande sugli strumenti che usiamo. Lui è convinto che per riparare un orologio basti un po' di burro. Io no, però non mi sono mai chiesta molto bene a cosa serve WordPress. È il mio piccolo motore del mio piccolo spazio online, però ho detto, vabbè, quale sarà la definizione concreta, vera, quella che dicono le persone serie quando parlano di WordPress. E come facciamo tutti? Io ho chiesto a Wikipedia. Wikipedia ci dice questa cosa qua, che WordPress è una piattaforma software di blog e content management system, CMS, open source. Questa roba qua vuol dire semplicemente open source vuol dire che tutti ci mettono le mani. WordPress è di tutti. Ieri al contributor day abbiamo messo un po' le mani in varie cose di WordPress. E la piattaforma, software di blog, bla bla bla. Poi la definizione continua con facilità di utilizzo, server, sito web, tutte queste cose che tutti noi usiamo e che ci piacciono tanto, perché ci piace che WordPress non ci rompa tanto e non sia molto difficile da usare e che noi possiamo, se non sei un programmatore e sei un blogger fondamentalmente una volta che l'hai installato, l'hai fatto partire un po'. Però tutta quella roba lì di piattaforma, di software, bla bla, significa che è uno strumento. WordPress è uno strumento, cioè una cosa pensata per farci fare altre cose. Il suo scopo non è esistere in quanto tale, ma abilitarci a fare altre cose. Ora, se vi chiedete cosa c'entra col CV Caking, che è il progetto di cui parliamo, farò la prima osservazione ovvia da cappellaio matto. Probabilmente molti di voi non sanno cos'è il CV Caking. Questa è la definizione che diamo noi, che è open data, comunità informali, zone grigie e prototipi. E questi sono i nostri ingredienti per fare CV Caking e per trovare soluzioni creative a sfide sociali concrete. Creatività e trovare nessi nuovi fra cose note. Tutto questa cosa, Alex Howard, che è uno che si occupa di queste cose nella vita, nel 2014 l'ha ridotta dicendo che il CV Caking è un approccio creativo, spesso legato alla tecnologia, ma non necessariamente, per risolvere problemi sociali. Quindi ha a che fare con problemi, si parte da un problema, ha a che fare con l'essere cittadini, ha a che fare vagamente con l'essere amministratori, ma quello lo lasciamo da un'altra parte. E se vi state chiedendo cosa c'entra tutta questa roba qui con WordPress, benvenuti nel club. Siete anche voi dei piccoli cappellai matti. Questa è esattamente la domanda che mi sono fatta io prima di un altro WordCamp. E ho chiesto a Google, perché a chi vuoi chiedere se non al signor Google. E questo è il primo risultato che viene fuori. Do Action è una campagna di hackathon organizzati localmente, quindi esattamente come i meetup e come i WordCamp, che mette insieme delle persone che ruotano attorno a WordPress per creare dei siti web per le comunità, in particolare loro lavorano con ONG e associazioni. Perché fanno quello che facciamo tutti quando troviamo una cosa interessante. Gli diciamo, fermati che ti aiuto io con la tua presenza online. Non necessariamente a fare la tua comunicazione online, ma ti dà uno strumento per parlare online di te e di quello che fai. I prossimi eventi li trovate nel sito. I prossimi eventi sono per esempio a Mumbai, a Montreal e da un'altra parte che non mi ricordo, portate pazienza, però sono elencati. E anche se questa è una cosa bellissima, in realtà quando noi facciamo un sito web o ci occupiamo di un sito web, WordPress fa dell'altro. Una cosa che noi abbiamo scoperto è che con quella definizione di blog, WordPress ha poco a che fare. Nel CV Caking è pieno di progetti in cui WordPress è utilizzato per fare altre cose. Non solo per creare blog, non solo per avere una presenza online, ma per esempio è usato per generare dati. I dati sono dei mattoncini che servono per fare altre cose, degli strumenti di misurazione e grazie a dei plugin e a dei temi specifici questi dati possono trasformarsi per esempio in visualizzazioni, oppure in altre cose di cui vi parlerà Matteo più tardi, per esempio in identità territoriale, per esempio dati creati da altri posti. E i dati non sono solo i numeri, noi abbiamo scelto una sequenza di 0 e 1 perché è simpatica, però i dati sono sia i testi, però i numeri ma anche le misurazioni. E come si fa a generare dati con WordPress? Per esempio si sfruttano i dati generati dagli utenti, che non sto parlando di commenti, sto parlando di altre cose. Per esempio abbiamo una nostra conoscente che ha creato un progetto che si chiama Mappina ed è un progetto di mapping, mapping vuol dire mappatura, di collaborativo della città di Napoli. Il problema concreto da cui lei è partita è il fatto che la città di Napoli è rappresentata sempre come pizza, mandolino e pulcinella. E lei che è napoletana questa cosa le stava qua, non le andava nessuna giù, la odiava tantissimo. Quindi ha creato questa piattaforma su WordPress, adesso si sono spostati però l'inizio è partito da lì, in cui fondamentalmente ha chiesto ai napoletani di fare delle foto o registrare dei piccoli video della loro città. Gli ha detto ma tu come vedi Napoli? Cosa vedi quando cammini per strada? Quindi è diventato una collezione di, adesso si è espanso ed è uscito oltre a Napoli e si chiama, è anche cambiato nome, però è diventata una collezione di mini momenti di street art piuttosto che della cantante che canta, piuttosto che della signora che mentre stende i panni richiama il cane, piuttosto che degli scugnizi che si gridano una cosa da una parte all'altra della strada. È diventato una mini raccolta di momenti di Napoli, di momenti di Napolicità, facciamo che è una parola che esiste, e sono, ecco Napoletanità mi correggono, e sono tutti dati generati dagli utenti, cioè lei gli faceva creare un profilo nel suo sito, gli faceva georeferenziare queste cose, quindi le foto piuttosto che le registrazioni erano, scusa? No, georeferenziate vuol dire che, grazie, così mi perdo, vuol dire che erano segnalati su una mappa, erano un punto preciso su una mappa, che vuol dire che questa cosa se tu vai a vedere è lì, questa cosa è successa lì, questo graffito è in questa strada e non è solo una questione di indirizzo, sono proprio coordinate geografiche. I dati georeferenziati servono perché se tu stai raccontando una città, ti serve sapere quale parte della città stai raccontando, perché le città non è che sono una, come i problemi delle città non è che sono uno, ognuno ci vede tante cose nelle città. Un altro modo per generare dati sono le API, che sono una cosa che fa paura, io lo so. Voi, le persone che sono tecniche come Matteo, poi potete fargli tutte le domande che volete. Io vi dirò solo quello che ho capito io dell'API. Gli API sono di contratti tra due macchine, quindi il server e quello che risponde, che fanno sì che a domanda precisa, fatta con parole precise, venga fornita una risposta precisa. Cosa vuol dire dati generati via API? Vuol dire che sfruttando l'API che anche WordPress ha, si possono creare delle cose come un esperimento che ha fatto un nostro amico che si chiama Cesare Gerbino e l'esperimento si chiama Open Pronto Soccorsi. Si tratta di una raccolta di dati sui minuti di attesa di pronto soccorso che lui ha reso consultabile via Telegram, perché ha fatto un bottino su Telegram che risponde, e via web. Lui ha creato una serie di contratti e ha creato una serie di, come dire, ha messo insieme una serie di dati, perché ovviamente gli ospedali devono essere già referenziati, quindi per esempio ha preso i dati di OpenStreetMap, alcuni dei dati delle attese sono rilasciati in OpenData, e dopo Matteo vi dirà cosa sono gli OpenData, ha messo insieme una serie di dati, ma ha anche creato una serie di contratti, perché questi dati automaticamente dessero delle risposte nel momento in cui fossero interrogati in una certa maniera. Non vi ho messo la slide di come è fatto, però noi pubblicheremo i materiali e lì c'è tutto il racconto di come Cesare ha fatto questa cosa. Ora, io vi ho spaventato con l'API, quindi vi lascio in mano a Matteo. Questa è una sua rappresentazione fedele, come vedete, e anche lui, come voi, anche voi ci siete in questa immagine, Alice siete voi, avete tempo di farci le domande alla fine, e se adesso siete confusi va bene, anche Alice era confusa, ma poi alla fine si è divertita, no? Non so se sia un bene che sia una regina di cuori, ma proviamo a metterci nei panni. Io sono un informatico di formazione, ma in realtà hanno un programma da, credo, dal 2006. Al massimo quello che potrei definire è che smanetto. Quello che mi piace fare però è contaminarmi con temi che sono fuori dalla tecnologia pura. L'altra cosa che è un po' la lettura di quello che stiamo dicendo è che la tecnologia di per sé è uno strumento. Lo strumento deve abilitare qualcosa, altrimenti se la tecnologia non viene utilizzata è come se non esistesse. E questo crea dei problemi. Vi parlo di tre cose andando avanti lungo la tana nel bianco oniglio. Vi parlo di la capacità di WordPress di diventare uno strumento per comunicare e far capire un'identità territoriale. Per chi è vissuto un po' nella blogosfera di fine anni della prima decada degli anni 2000, si ricorderà che a un certo punto tra il 2007 e il 2009 si parlava moltissimo di citizen journalism, cioè della capacità di, grazie a strumenti come WordPress che potevano democratizzare, bruttissima parola, mi ammazzano, esatto, la capacità di pubblicare contenuti. Prima della venuta di social network tu potevi aggregare voci dal basso, voci che parlavano di qualcosa di profondamente territoriale. Pensiamo a problemi di un quartiere, pensiamo a quante realtà certi quartieri delle nostre città, dei nostri paesi si aggregano a un'associazione di quartiere che lottano per difendere i propri diritti, per difendere la propria capacità di resistenza al cambiamento rispetto alla cementificazione piuttosto che alla perdita di territori comuni e via dicendo. E WordPress era uno dei veicoli, uno degli strumenti che poteva essere usato da queste realtà su scala piccolissima per poter far emergere voci che non attraversavano i media, non attraversavano i giornali locali, non attraversavano i mass media, ancora peggio. Per cui WordPress ha questa capacità, la capacità di aver reso semplice a bassissimo costo se uno ha competenze di dare voci indipendentemente dal contenitore. Cioè al di fuori del mondo dei social network tu puoi creare delle voci sotto il tuo controllo con regole che ti dai tu. Faccio un esempio reale. Io ho usato WordPress nel 2011 e nel 2012 su alcuni progetti di partecipazione urbana o meglio progettazione urbana partecipata. Fondamentalmente significa che la realtà comunale tendenzialmente paga uno studio di architetti che fanno da facilitatore all'aggregazione di voci dal basso dei cittadini che solitamente sono incazzatissimi. Perché? Perché spesso deriva da conflitti locali, di lotte, di... c'è un territorio che va rimesso in gioco, va deciso come sfruttare quel terreno, quei campi che prima erano di un certo tipo piuttosto che un altro e va deciso in maniera collegiale cosa farne. Abbiamo fatto un esperimento a Vicenza nel quartiere di San Pio X, che è quello vicinissimo alla zona della base militare della NATO, e abbiamo fatto un percorso di circa sei mesi in cui noi abbiamo installato un'installazione di WordPress per raccontare i passaggi temporali di evoluzione del percorso, cercando di dare tutti gli intermezzi con dati, infografiche, quello che facevano gli architetti, che vanno matti per le infografiche, tutto quello che emergeva dai cittadini durante le passeggiate urbane, e questa cosa cercava di mediare anche il racconto che magari il media locale, il giornale locale, poteva fare posizionato un po' da una parte o dall'altra, contro l'amministrazione piuttosto che contro alcune realtà che volevano certe cose, cercando di dare voce a chi magari non aveva voce, o non abbastanza. L'altra cosa che sull'identità territoriale WordPress può aiutare è una cosa che aveva fatto l'amministrazione Obama con le petizioni. Se vi ricordate, se qualcuno lo sa, Obama aveva, la Casa Bianca, aveva creato un sito di petizioni dove potevi chiedere tutta una serie di cose, raccogliere firme e consenso dietro a tutta una serie di cose che poi arrivavano a essere discusse dalla Casa Bianca. e per farlo, per facilitare la vicinanza ai cittadini e la cittadinanza di quei temi, avevano fatto anche un plugin per WordPress per selezionare certe petizioni che potevano essere interessanti e poi farle votare e distribuite all'interno di siti che usavano WordPress che potevano confrontarsi su questa o quella petizione. Quindi in qualche modo di WordPress era stato considerato uno dei veicoli maggiori di diffusione di temi che altrimenti rimanevano relegati all'interno del contenitore del sito delle petizioni americane. E questo è un'altra forma di democratizzazione di alcuni contenuti che possono essere veicolati solo attraverso un media e attraverso l'uso di WordPress possono aumentare ed essere più diffusi. L'altra cosa, oltre l'identità territoriale di WordPress, è la capacità di aggregare cose diverse. Solo però se ce ne accorgiamo, ovviamente, che è un po' lo stimolo che vogliamo fare oggi. Quello che accennava Erika, allora io sono un informatico, purtroppo questa cosa la conosco, questa è una delle immagini che abbiamo preso da Alice più concettualmente vicine al concetto di API, non è stato semplice, vi assicuro. L'API di fatto è una comunicazione macchina a macchina, machine to machine si dice, che cosa fa? Permette di fare automatismi, permette di far dialogare cose totalmente diverse tra loro. Nel caso di WordPress, uno dei classici luoghi di, come dire, di guerriglia, se volete, tra programmatori è quale linguaggio di programmazione è migliore rispetto ad un altro. E si dimentica che in realtà dipende da cosa ti serve, per cosa ti serve usare quel linguaggio. Da quando a fine 2016 WordPress ha abilitato nel core di WordPress l'API, una cosa che si chiama REST API in realtà, è andato a permettere a persone diverse da chi sviluppa in PHP, piuttosto che conosce il sistema di sviluppo dei plugin, dei temi e tutto il framework di WordPress, permette di interagire con i clienti, contenuti di WordPress, che lo sappiate o meno tutti i post, tutte le categorie, tutta la famiglia di caratteristiche di WordPress è esposta via API dalla versione 4.7, se la volete usare bene, se no, altrimenti no, ma la cosa che permette questo è fondamentalmente l'interoperabilità, un'altra parolona brutta, permette di far dialogare sistemi diversi che nascono con linguaggi diversi attraverso un linguaggio comune, quella busta famosa. E questa cosa fondamentalmente crea, cioè i limiti di questa cosa è solo l'immaginazione. L'altra cosa che è importante, che magari non so se l'avete mai sentito, se qualcuno di voi l'ha sentito parlare di Open Data, alzi la mano, vediamo. Pensavo peggio. Allora, l'Open Data fondamentalmente sono dati che possono essere riusati per qualsiasi tipo di motivo, compreso l'utilizzo commerciale, al massimo usando due vincoli. Il vincolo dell'attribuzione, quindi il famoso Creative Commons by, per chi conosce anche le licenze Creative Commons, dovrebbe essere una platea che le conosce, oppure con lo share alike, il famoso vincolo della viralità dell'open source, che quindi ti obbliga a non togliere la libertà che hai ricevuto e a riconsegnarla a terzi. WordPress, ad esempio, anche qui l'amministrazione Obama, l'Open Data di solito è attualmente creato fortemente dalle amministrazioni pubbliche, è di uso del patrimonio informativo pubblico, ma non è detto che quello sia il vettore. Data.gov è il sito americano che fa il catalogo di tutti i dati aperti, in italiano l'abbiamo tradotto in dati aperti, di tutti gli open data pubblicati dall'amministrazione statunitense e avevano fatto un plug-in per aiutare la navigazione di quei dati dal catalogo e anche votarli. Quindi permetteva di raccogliere dal basso, attraverso chi voleva installarlo e creare un contenuto, una conversazione attorno a quei dati, poteva far sentire il feedback della cittadinanza verso l'amministrazione. Se certi dati erano più interessanti o meno, venivano, era un modo di raccogliere questo feedback. Ovviamente l'amministrazione Obama era particolarmente evoluta su questo, quella attuale un po' meno. L'ultima cosa, quindi mettere insieme cose diverse, significa anche la capacità di avere sia plug-in sia API che ti permettono di fare una serie di cose. Questa è una visualizzazione di un plug-in che ho usato all'interno dello stesso progetto del quartiere di San Pio X a Vicenza, che cosa fa? È un plug-in che si chiama Maps Marker, che fondamentalmente ti aiuta tantissimo, ti fa scegliere il livello di visualizzazione sottostante. In questo caso è OpenStreetMap, per chi non la conosce è la Wikipedia delle mappe. Quindi dato creato dalla comunità, che non è solo il dato che vedete qui, quindi la rappresentazione del layer se vogliamo geografico, ma è anche la tipizzazione di tutti i dati che uno visualizza, quindi dove sono le strade, dove sono gli uffici postali, qualsiasi cosa che tu puoi estrapolare poi anche come dati puri. Il plug-in permetteva anche di raccogliere facilmente senza dover programmare, quindi pur avendo le competenze, quando non hai tempo, risorse, costi e benefici non sono abbastanza, puoi aggiungere i livelli di posizionare quello che era emerso durante la passeggiata urbana, ti permette di pubblicare questi dati, adesso qui non si vede però l'URL di questo plug-in permetteva poi di interrogare in diversi modi quello che si vedeva attraverso la mappa e permetteva volendo anche di aprire, se tu WordPress l'avessi aperto a n utenti cittadini magari evoluti che potevano, che sapevano usare WordPress, potevano anche aggiungere loro stessi altre segnalazioni, quindi in modalità crowdsourcing se vogliamo e con costi pressoché nulli. L'ultima cosa che volevo dire, quindi abbiamo detto che WordPress fa la capacità di creare identità territoriale, di facilitare l'identità territoriale, di creare, aggregare dati di fonti diverse, quindi mettere insieme cose diverse. L'ultimo passaggio è un'altra cosa che ho usato all'interno di un processo di partecipazione urbana, BuddyPress. Quanti di voi conoscono BuddyPress? Sanno che esiste. BuddyPress fondamentalmente è un insieme di plug-in ed è un WordPress configurato multiutente con la capacità di essere un social network stand alone, quindi un piccolo Facebook se vogliamo che potete creare, configurare ed allestire dandovi delle regole di comportamento completamente come volete. L'abbiamo usato all'interno di un processo per il Delta del Po su un processo di inserimento dell'area del Delta del Po nell'area MAB dell'UNESCO, quindi un sito UNESCO del secondo livello che si può selezionare. E volevamo capire come far aiutare la conversazione su contenuti della comunità locale. Ovviamente questo era uno strumento. La cosa che è interessante ricordarsi è che WordPress non è solo una comunità, o meglio una comunità open source che permette la creazione di un ecosistema come sono gli WordCamp, come sono gli informatici, gli appassionati che danno una mano a crescere WordPress e quindi come strumento, ma anche è capace di creare e dare visibilità a comunità esistenti anche legate a un progetto, una problematica specifica, in modo da non dipendere solo e soltanto dai social media in cui le regole le danno loro, i dati vanno in mano a loro e quindi tutta l'economia dietro e anche perdere un po' l'appartenenza di quella, come dire, della difficoltà di veicolare un messaggio chiaro, locale o legato a un semplice problema su una piattaforma come può essere Facebook che invece è orizzontale, non parla di tutto e di niente. E quindi questa cosa va ricordata. Quindi la cosa importante è che, con quello che abbiamo detto oggi, è che WordPress è una piattaforma particolarmente si adatta tantissimo e non è solo tecnologia, bisogna avere anche l'immaginazione di capire a cosa può servire, non solo siti, non solo CMS e quindi vai. A proposito di WordPress si adatta, una cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che in realtà anche la creazione di siti eccetera, con l'immaginazione uno può pensare di lavorare in maniera diversa. Per esempio negli Stati Uniti hanno creato un tema per WordPress che si chiama GovPress che è fatto apposta per facilitare le piccole municipalità nella loro presenza online. Quindi è vero che c'è bisogno di creare un posto dove i cittadini magari possano trovare delle informazioni, ma è anche vero che gli sviluppatori che hanno sviluppato GovPress non l'hanno fatto per il loro comune, per la loro municipalità. Hanno fatto questo tema che è anche bellino, molto semplice, che però ha già preinstallato una serie di plugin, una serie di cose che servono per quello scopo lì. Quindi anche la creatività non è solo nell'utilizzo, ma anche nel vedere poi i problemi. Davvero posso risolverli per questa persona e anche per un'altra persona e anche per un'altra persona. E WordPress è davvero adattabile, cioè fa tante cose. Fa anche molte più cose di quelle che vi abbiamo raccontato oggi. Tipo sull'open data, ad esempio, se pensate a tutti i plugin che ci sono per pubblicare dati tabellari, sono diversi, la possibilità di pubblicare dati tabellari aggiungendo una licenza di riuso possibile permette a WordPress anche di pubblicare dati in forma grezza. L'altra cosa è che, come dire, qui è solo l'immaginazione effettivamente a essere il vero limite. E basta. Direi che ci siamo stati dentro.